Ciao a tutti amici di Unaprite questo blog, qui è il Gons oggi vi voglio parlare di una cosa che mi ha fatto molto piacere che riguarda un film italiano che si chiama The Nest di Roberto De Feo del 2019, è un film molto bello che vi consiglio se non l'avete visto film di cui la Gotham Film Group ha acquisito i diritti per distribuirlo in Spagna, è uscito da pochi giorni insomma a quanto pare sta andando benissimo, è quarto tra i film più visti di gennaio e quindi questa è una notizia che mi fa molto piacere perché comunque un film italiano visto che ci sono tanti detrattori del cinema horror italiano che si lamentano, dicono che i film horror italiani non valgono niente e persino quelli del passato, sento criticare ogni giorno invece questo è un ottimo film e non è l'unico film italiano bello uscito di genere horror degli ultimi anni sono sicuramente pochi ma questo è anche colpa dei produttori che non investono in questo genere ma poi vai a guardare non è neanche colpa loro perché se c'è gente che rema sempre contro e vuole un cinema confezionato tutto uguale di plastica come quello che vedete su Netflix o su certe piattaforme poi è chiaro che nessuno investe per il cinema di genere italiano qualche coraggioso l'ha fatto e i risultati poi sono stati positivi vedi The End, vedi il piccolo, scusate, il signor diavolo mi confondo sempre col piccolo diavolo di Benigno vedi The Nest eccetera eccetera e anche tantissimo cinema indipendente italiano che spacca quindi bella notizia per il cinema italiano e poi si aggiunge una piccola nota negativa cioè il titolo con cui è stato esportato in Spagna The Nest che sapete The Nest vuol dire il nido che è un titolo che comunque ha un senso con la trama e invece in Spagna è uscito col titolo La Maldizione de Lake Manor se non ci mettono questo è un po' un titolo da congiuriani se non ci mettono una maledizione la gente non se lo guarda, non se lo compra, non lo noleggia quindi sono caduti anche loro in questa trappola di creare il titolo che non c'entra veramente nulla col film però vabbè dai, a parte questa nota negativa direi che fa piacere che il cinema italiano sia stato esportato in Spagna e che stia piacendo lasciatemi se volete un commento su The Nest se vi è piaciuto qui sotto al video e se vi ricordate qualche titolo invece che noi italiani abbiamo cambiato in modo indegno per esempio mi viene in mente Midsommar che ha come sottotitolo il villaggio dei dannati e non c'entra niente con la storia questo è tutto vi ricordo di seguirci anche sugli altri social a presto, ciao